Il 25 ottobre parte il nuovo programma di Joy Tassel! Direttamente sulle frequenze di 4Music, ok? Tutti i giorni dalle 20 alle 21 in diretta il meglio del rock mondiale con ospiti, rubriche e la partecipazione di Mr. Orgo! Ehi ragazzi sono James Day Metallica, vi aspetto tutti quanti insieme nel garage di Joy! Grazie!